In questo video cerchiamo di trovare tutti gli n naturali, tale che n all'ottava più n più 1 sia un numero prima. Come procediamo? Qual è il ragionamento? L'idea deve essere che possiamo trovare un numero k, tale che per ogni n maggiore o uguale di k n all'ottava più n più 1 si fattorizza quindi è un numero, diciamo si fattorizza e quindi non può essere il primo ma quindi è un numero composto. Questa qui è la nostra idea, quindi trovare un numero, una soglia che limita superiormente per cui comunque scelgo n più grande di k, sicuramente n all'ottava più n più 1 è un numero composto, non sarà primo e quindi quello che andremo a fare è controllare tutti gli n più piccoli di k. Quindi controlleremo Poi tutti gli n strettamente più piccoli di k. Ok, quindi proviamo a fattorizzare, quindi fattorizziamo n all'ottava più n più 1, dobbiamo trovare le radici. Quindi, diciamo, chiamiamo f con x uguale alla funzione x elevato alla 8 più x più 1, dobbiamo trovare le radici di f di x. Questo è il nostro obiettivo soltanto che f di x è un polinomio di grado 8 e sinceramente non so voi ma io non lo so risolvere. Per cui dobbiamo farci più furbi e fare, diciamo, la seguente osservazione, quindi avere la seguente idea. Io so risolvere un'equazione più semplice di x all'ottava più x più 1. Se al posto di quella x alla 8 ci fosse ad esempio un x alla seconda, x alla seconda più x più 1 è un'equazione che sappiamo tutti risolvere. Quindi mi chiedo, esiste per caso un numero w tale che da una parte risolve l'equazione più facile, quindi w alla seconda più w più 1 è uguale a 0, che è l'equazione che sto a risolvere, quindi punto 1. E punto 2 è che w alla seconda sia uguale a w all'ottava, perché così se esiste, se esistesse, allora avremmo f di w uguale a 0, ovvero w è una radice di f, che è proprio quella che stiamo cercando. Quindi cerchiamo w. Allora, dalla prima equazione, quindi w alla seconda più w più 1 uguale a 0, otteniamo subito w da essere una radice cubica dell'unità. Perché? Perché questa qui è vera se soltanto se molti più a destra e a sinistra è w meno 1, quindi w meno 1 per w alla seconda più w più 1 uguale a 0. O questo è vero se soltanto se w al cubo meno 1 uguale a 0, questo qui è, diciamo, w al cubo meno 1, si può sempre scrivere con w meno 1 per w alla seconda più w più 1. Ovvero, se soltanto se w è una radice cubica dell'unità diversa da 1. Chiaramente perché è diversa da 1? Perché con 1 non funziona, perché ad esempio w alla seconda più w più 1 avrei 1 più 1 più 1 fa 3, che è chiaramente diverso da 0. Come sono fatte le radice cubiche dell'unità, quindi w appartiene all'insieme della forma e alla i 2 k pi greco fratto 3, con k uguale, non 0, perché altrimenti otterrai 1, quindi k uguale a 1 oppure 2. Scegliamo, ad esempio, k uguale a 1 e otteniamo w uguale a e alla i 2 terzi pi greco. Quindi, questo w risolve la prima delle due equazioni che w deve risolvere, vediamo se risolve anche la seconda. Quindi, è vero che w alla seconda è uguale a w all'ottata? Beh, questo è vero se soltanto se w alla sesta è uguale a 1. Mas, andiamo a sostituire. E alla i 2 terzi pi greco. Alla sesta, cosa è uguale? È uguale a e alla i, quindi il 3 si semplifica col 6 che diventa 2, quindi e alla i che moltiplica 4 pi greco. Ma e alla i 4 pi greco che cosa è? Coseno di 4 pi più volte seno di 4 pi. Mas, coseno di 4 pi è 1, seno di 4 pi è 0 e quindi è uguale a 1. E quindi, in conclusione, diciamo, w risolve anche questa equazione, quindi w alla seconda è uguale a w all'ottata. E quindi, diciamo, abbiamo trovato una radice di f. Sappiamo che f di w è uguale a w all'ottata più w più 1 è uguale a 0. E d'altra parte sappiamo anche che... w alla seconda più w più 1 è uguale a 0. Ora, per come è definito w, diciamo, quest'ultima equazione è la più piccola equazione che rende 0 w. e quindi possiamo, diciamo, immaginare di scrivere, possiamo scrivere f di x come il prodotto tra x alla seconda più x più 1 per una qualche funzione g di x. Così, poi, quando vado a sostituire a f, o a sostituire al posto di x, w, ottengo w alla seconda più w più 1 che è uguale a 0 in conformità col fatto che f di w deve essere 0 per un certo g di w. Come è fatto g? Quindi troviamo g. Allora, chiaramente g è il rapporto tra x all'ottava più x più 1 che è f di x diviso x alla seconda più x più 1. Quindi facciamo il rapporto, la divisione tra questi due polinomi, facciamola in colonna. Allora, cosa abbiamo? Andiamo, qui dobbiamo dividere x all'ottava più x più 1 per x alla seconda più x più 1. Quindi abbiamo il rapporto tra x all'ottava e x alla seconda che fa x alla sesta e quindi moltiplicando otteniamo x all'ottava più x alla settima più x alla sesta. Sottraiamo, quindi qui 0, meno x alla 7, meno x alla 6, più x più 1. Ora, il rapporto tra meno x alla 7 e x alla seconda è meno x alla 5. Moltiplichiamo, otteniamo meno x alla 7, meno x alla 6, meno x alla 5. Sottraiamo e quello che otteniamo è 0, perché meno x alla 7, meno x alla 7 fa 0, meno x alla 6, meno x alla 6 fa di nuovo 0, quindi più 0, più x alla 5, più x, più 1. Il rapporto tra x alla 5 e x alla 2 è più x alla 3, quindi quello che otteniamo è x alla 5, diciamo x alla 5, più x alla 4, più x alla 3. Sottraiamo nuovamente, teniamo 0, meno x alla 4, meno x alla 3, più x più 1. Il rapporto tra meno x alla 4 e x alla 2 è meno x alla 2, quindi quello che otteniamo è meno x alla 4, meno x alla 3, meno x alla 2, e andiamo a sottrarre e otteniamo 0, più 0, più x alla seconda, più x più 1. Insomma, x alla 2, più x più 1, diviso di nuovo, x alla 2, più x più 1, proprio 1. Quindi, conclusione, conclusione, g di x, come si scrive? che si scrive come x alla 6, meno x alla 5, più x alla 3, meno x alla 2, più 1. x alla 6, meno x alla 5, più x alla 3, meno x alla 2, più 1. E quindi, in particolare, f di x lo possiamo sempre scrivere come x alla seconda, più x più 1, per g di x, che è x alla 6, meno x alla 5, più x alla 3, meno x alla 2, più 1. Abbiamo trovato una fattorizzazione di f di x, in che senso? Se vi ricordo che f di x, quando l'avevamo definita, che cos'era? Era x all'ottava, più x, più 1. Quindi, se sostituiamo a x il valore n appartenente ai numeri naturali, otteniamo che n all'ottava, più n, più 1, lo possiamo sempre scrivere come n alla seconda, più n, più 1, e moltiplica n alla sesta, meno n alla quinta, più n alla terza, meno n alla seconda, più 1. Quindi, possiamo fattorizzare n all'ottava, più n, più 1, come il prodotto di questi due termini. Ora, non è detto che questo sia un numero composto, perché può essere che 1, diciamo, dei due fattori sia uguale a 1. Tuttavia, la prima osservazione da fare è che n alla seconda, più n, più 1, è sempre strettamente più grande di 1, perché n è un numero naturale, quindi è un numero positivo. E quindi, sto aggiungendo a 1 una quantità positiva. E la seconda, ci chiediamo, può essere n alla sesta, meno n alla quinta, più n alla terza, meno n alla seconda, più 1, uguale a 1, punto di domanda? Se così fosse, avremmo, che cosa? Cioè, se questa quantità fosse uguale a 1, quindi avremmo che queste due quantità devono essere uguali, e quindi avremmo n all'ottava, più n, più 1, uguale a n alla seconda, più n, più 1. Ma questa cosa è assurda, perché n all'ottava è strettamente più grande di n alla seconda, quindi è assurdo se n è maggiore o uguale a 2, perché se n è uguale a 1, funziona. Quindi, qual è la conclusione? La conclusione è che quest'altro termine, n alla sesta, meno n alla quinta, più n alla terza, meno n alla seconda, più 1, strettamente più grande di 1, se n è maggiore o uguale a 2. Quindi, conclusione, n all'ottava più n più 1 è un numero composto se n è maggiore o uguale a 2, perché? Perché si fattorizza come il prodotto di due quantità che sono più grandi di 1. Mentre se n è uguale a 1, che succede? Se n è uguale a 1, otteniamo 1 più 1 più 1 è uguale a 3, che è un numero primo. E quindi, l'insieme degli n, tali che n all'ottava più n più 1 è uguale a p primo, è uguale all'unico n, ovvero il punto n uguale a 1, perché abbiamo fatto vedere che per n maggiore o uguale a 2, l'espressione n all'ottava più n più 1 si può fattorizzare in modo non banale.